Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Siamo qui nella camera di Marta perché Marta sta crescendo e quindi volevamo ripristinare la camera. Volevamo cambiare mobili, letto, cioè completamente, buttarla giù e rifarla. Come primo passo ovviamente c'è da dare il colore, pensavamo di farla bianca per dare più luminosità, dato che è una stanzina molto poco grande, e una parete farla di un colore che ha scelto Marta, che è il glicine. La situazione è questa, vi facciamo adesso giusto una panoramica e poi vedrete il risultato, quindi poi faremo il prima e il dopo. Con il plan Ikea abbiamo già provveduto a fare il progetto e infatti pensavamo di arredarla Ikea, abbiamo già scelto i mobili e tutto quanto. Come primo passo adesso bisogna un attimino sgomberare e poi dare il colore. Mi raccomando, seguiteci in questo percorso! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Abbiamo appena ricevuto tutta la merce Ikea e l'abbiamo messa qua momentaneamente, adesso dobbiamo svuotare l'armadio che abbiamo di là e poi costruire tutto e metterlo all'interno della camera. Quindi diamoci dentro! Pronti? Via! Grazie a tutti! 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 perché alcune cose vorremmo poi modificarle ad esempio il letto per adesso abbiamo ottenuto quello che c'era che è questo qui con la spalliera in legno molto probabilmente lo cambieremo poi un'altra cosa che volevo cambiare è il tappeto lo faremo poi successivamente abbiamo ottenuto invece questi sono scatole portagiochi oltre alle varie modifiche che vi ho detto prima sicuramente poi andremo ad aggiungere magari qualche quadro qualche decorazione avete visto il progetto iniziale e adesso vi facciamo vedere una panoramica di tutta la stanza un'altra parte bene questo video è terminato spero che vi sia piaciuto se è così mettete un like e vi ricordo di cliccare qui per iscrivervi al canale noi come sempre ci vediamo alla prossima ciao